Ciao ragazzi, ben ritrovati, l'Aliente di Football qui a cercare di creare del calcio interestellare per voi Oggi lunedì, giorno di aggiornamento, un aggiornamento molto deludente Con un pull a quanto pare riciclato, meno giocatori in evidenza addirittura Scelta un po', diciamo, poco comprensibile per Konami Tanto i nuovi giocatori non so se è una questione di diritti o che Tra l'altro un pull che non penso fosse arrivato nemmeno così tanto tempo fa, abbastanza recente Tant'è, noi però ragazzi abbiamo un compito, qui dobbiamo salire, dobbiamo cercare questi ultimi tre punti in questo episodio per la promozione in terza Dove comincerà poi la scalata fino in prima Il nostro avversario è il Rennes, il Rennes, come si chiama, squadra francese Sempre quarta divisione Quindi con questa vittoria dovremmo riuscire ad approcciarci alla fascia, alla prima fascia, quindi da terza a prima Andiamo a dare un'occhiata ai nostri ragazzi, con Torami informissima, così come Pavarra Andiamo ad dare un occhio in panchina anche a Slani, informissima anche i Klasen Io ho più a Slani, vorrei giocare Vi ripeto, mi fa molto piacere Tra l'altro con uno Slani così mi viene quasi voglia di giocare barella più offensivo, ma Cioè praticamente risettarlo questo e farlo offensivo, perché pensate che barella così forte com'è È perché gli ho dato tanti punti nei quattro di difesa, ma se togliamo parecchi punti da lì Barella può diventare molto molto più forte, molto molto più veloce, anche più bravo nel dribbling Quindi diventa un centrocampire secondo me molto molto forte Però poi ho paura che quando a Slani non sta bene non so chi metterci praticamente, è un po' quello il discorso Sta di fatto però che... no, vabbè dai ci teniamo Barella che sta in forma Frattesi meglio di Miki Per il resto direi che ci siamo Vediamo il nostro avversario, squadra classica con Xabi Alonso come Epico Poi Griezmann, Foden dietro Ronaldo, Oland e Gnabry Quindi Ronaldo, quello che ci hanno regalato con gli accessi del giorno Versione ESA E ci siamo Pronti a cercare questi punti ragazzi Altra giornata di campionato tra l'altro alle spalle Adesso con un Inter che è riuscito a ottenere anche la vittoria su una partita difficilissima come il Bologna Una partita che non ho visto Campionato che sa un po' di discorso chiuso ma ormai il bello arriverà fra un paio di giorni con la Champions League Lì sarà discorso complesso a prescindere dal fatto che ovviamente partiamo in una situazione di vantaggio Dato l'andata ma Una ragionata in Spagna non è mai semplice Specialmente contro una squadra ostica come l'Atletico Madrid Purtroppo Intanto vedo che in panchina il nostro avversario c'ha comunque i soliti Mbappé E Bernardo Silva Visto anche Sané Avversario con molta calma si sta gestendo tutto il suo tempo Tempo che è finito Che si parte Inter-Ren L'Inter a battere il calcio d'inizio con Turam e Lautaro sul pallone Lautaro E si parte Poi lento Lautaro in questo caso perde subito il pallone Allora Oland Pavar all'anticipo Allora l'Inter Oland addirittura a inseguire Poi se ne va Dumfries E Oland che se la va a riprendere alla fine Mamma mia ragazzi Non ci arriva Pavar Poi si Bravo Devere che l'alza Poi Frattesi Qui Ha letto tutto il difensore Griezmann che si accentra In avanti Cercare Oland Che calcia Subito Sommer Dice no Oh mio dio Non era quella l'idea Ma l'Inter se ne esce fortunatamente bene Frattesi a cercare Lauti Che riesce ad agganciare Calciato E c'è la parata di Mike Mognan La grande Il grande salvataggio Que Di Mognan Inter che aveva cominciato Una grande azione frattesi Poi sembrava non arrivarci su quel pallone Lautaro Invece Bravo Qui invece Poi il regalo E Lautaro Palo gol Erroraccio in uscita del Ren Qui con Lautaro Che recupera il pallone D'esterno Palo gol L'imprendibile Per Mike Mognan In questo caso Dopo che lo stesso Mike Mognan Aveva fatto una gran parata Brutto errore Ragazzi Come è stato lì Bisogna spazzare Tra l'altro Un errore simile Abbiamo fatto noi Nella ripartenza del portiere Avevo Cercato Ovviamente Il centrocampista Sembrava libero Nonostante avessi caricato Tutta la barra Insomma L'ha dato vicino Abbiamo rischiato Anche lì Qui tutti fermi All'improvviso Attenzione a Olanda Che calcia col destro Ma la mette alta Qui Non mi è piaciuto affatto Il fatto che sia bastoni Che De Vrij Hanno avuto quel blocco Momentaneo Che Ovviamente Ha fatto sì che Olanda arrivasse in tempo Una De Vrij Che va direttamente Da Doomfries Che aggancia Ma non riesce a controllare Il pallone Quindi Fuden Indietro Frattesi Recupera Riparte l'Inter Ciao la Noclou Turam 1-2 Bellissimo Non riesce a ridarla Subito velocemente Altrimenti si stava Per creare Una buonissima azione Poi Turam Che appoggia ancora Doomfries Spina nel fianco Quest'oggi Si libera Marcus Turam Fesso è servito Turam Ancora Frattesi Che la tiene in campo Incredibilmente Fuori gioco di Turam Forse qui è abbastanza stupidamente Ma Mi sembrava in linea Con Frattesi Eh di un niente Peccato Da lì a Ciala Lì sarebbe stato forse Quasi sicuramente gollo Se Una volta che Ciala Tira di prima A quel punto Peccato Per questo fuori gioco Si salva il Ren Dal 2-0 Al diciottesimo Magnano Con tutto il tempo Del mondo Corto A cercare Questa corta Questa avversaria È assente In questo momento Quindi aspettiamo A vedere se C'ha da fare Può mettere pausa Facciamo un po' Di fair play Ragazzi Si basta Che non mi fa Tutta la partita Così però Aspettiamo Ok Si è ripreso Si riparti Allora Quello Oraccio Si salva Perché l'autor Non do A prestare bene Qui Mignone Che rilancia Spero che stia Giocando Però adesso Pavard Di testa Servire Frattesi Anticipato Però Poi Barre È l'altro Gran recupero Frattesi Di nuovo A cercare Turam Però Non è uno Due Ma c'è Ciabialonso In perfetta Copertura Allora Di nuovo L'Inter Con Di Marco Bravo L'autor Ha servito Di Marco Che è in fuorigioco Però Ha fatto Quel controllo Lautaro Che ha fatto Andare in fuorigioco Di Marco Qui Mi aspettavo Speravo In un passaggio Di prima Che però Non è arrivato Di Marco È fino in fuorigioco Allora Ancora Alexander Arnold C'è in avanti Giocare Oland Lanchissima Ci arriva Sommer Si parte corto Con l'Inter Che gestisce Il pallone Poi Barella Allarga Per Di Marco Poi Turam Per Frattesi Sta salendo Dunfres Tutto chiuso Però Poi di nuovo Nello spazio Per Frattesi Ma Costa Curta Fa un grande intervento E ferma tutto Bravo Barella Che ci arriva 1-2 Con Turam Perfetto Lanciato Barella In velocità Sulla destra Non riesce A passare A qui Barella Peccato Vado a mettere Dall'altro lato Con Ronaldo Adesso Centralmente C'è Griezmann Che calcia Con il destro Tra l'altro Griezmann È sinistro L'Inter Come avete visto I difensori Hanno seguito bene Poi De Vres È staccato Per affrontare L'avversario Poi De Vre Che allarga Proprio per Di Marco Si fa vedere C'è la Noglu Ancora Lautaro 1-2 Che funziona Poi Lauti A cercare Di Marco Ma non c'è nessuno Al centro Si prova Ma fermato Senza troppi problemi In questo caso Dunfries In anticipo 1-2 Lanciato Lautaro In aria Non può sbagliare Il capitano È 2-0 Inter 1-2 Nello stretto Con Marcus Turam Perfetto Perfetta anche la palla Messa con i giri giusti Da Turam Per Lautaro È 2-0 Al quarantesimo Versario che sta facendo Perdere molto tempo Mi fa quasi pentire Il fair play Scherzo Cazzi Il fair play Bella Questa giocata A centrocampo Dell'Inter Con Dunfries Che può scendere Si fa vedere centralmente Marcus Turam Servito In aria Marcus Turam Tutto chiuso Torna indietro La cella Noglue Qui si è fermato Non sta passando di nuovo Dai però Torniamo indietro Aspettiamo Non credo Se questo ragazzo Vuole giocare Pro no Ecco qui Direi che ha staccato Ok Promozione facile Facile Ebbè Noi più che Che aspettarlo Quando non poteva giocare Se aveva da fare Non è che potevamo fare ragazzi Nel senso Ci siamo letteralmente Fermati con lui Sia quando aveva il pallone lui Sia quando avevamo il pallone noi Non è che Più fair play di così Penso che Si muore Quindi Finalmente Promozione facile Con una sola sconfitta subita Siamo in divisione 3 Si parte Con L'inferno Io ragazzi Ve la propongo ovviamente Ve ne propongo una Visto che questa è stata Molto molto veloce Nel senso Meno di un tempo Ma poi di calcio giocato Si è visto pochissimo Visto che Avversario tra Pause e contropause Perso abbastanza Tempo Vediamo Chi sarà il primo avversario Di questa terza divisione Da questo momento Possiamo beccare sia Avversario di seconda Che di prima Che di terza Ovviamente Eccolo Terza divisione Direi che Stavo per dire L'Egitto Ma non sono sicuro Sia l'Egitto Forse è l'Iran Come nazionale Non lo so ragazzi Perdonate la mia ignoranza In geografia Ma maia non mi sembra Quella dell'Egitto Di sicuro non l'Egitto Turam che sta bene Miki Parella Bastoni Benissimo Così Dunfresi è letteralmente Morto E noi giochiamo Un fedele Darmian Sulla destra Se ce ne sarebbe Anche il quadrato Forse è il quadrato Ragazzi Voglio giocarla Un po' più offensiva Aslani Ma c'è Barra Che è informissima Stessa cosa De Frattesi Arnatovic Meglio di Lautaro Ma lo togliamo Il capitano Questo è il discorso Ma si toglie Il capitano In queste situazioni Dai giochiamo Arnato Ci facciamo giocare tutti Chi diventa il capitano Adesso Devre Importante che abbia Leader come Sì ce l'ha Quindi siamo a posto Andiamo a dare un occhio La formazione del nostro avversario Con Rivaldo Bellissimo Rivaldo Furukashi in avanti Insieme a Neymar E poi De Paul A sinistra Formazione un po' asimmetrica Noi andiamo a mettere La marcatura Su quel Rivaldo Che mi sembra Molto pericoloso Non la metto anche su De Paul Voi vediamo effettivamente Come gioca il nostro avversario Ma siamo pronti Alla battuta direi Iran Poi ragazzi Mi fa zepere nei commenti Se ho indovinato Qui Turam Subito al recupero Bravo Arnatovic Controlla questo pallone Serve Barella Di nuovo da Arnatovic Di Marco Bravo una finta Se ne va Guadagna il fondo Il cross al centro Sta arrivando Turam La respinta del portiere E poi la pola che resta lì Col Miki Che calcia Giro E fa un gol Sensazionale Miki Tarjan Al quarto minuto Apre le danze Dal limite dell'aria Raccoglie Sposta il pallone In un niente Sposta il pallone E calcia a giro Sul palo più lontano E 1-0 Inter Poi altro regalo Con Marco Storam Che ruba il pallone Si fa vedere qui Arnatovic Passaggio un po' Esagerato Pretenzioso Lancio in avanti Qui c'ha La se la va a riprendere Un po' Troppo giocolire Il nostro avversario Ancora Miki Col pallone Cerca il Varco giusto Cercare Di Marco Peccato Ha capito tutto Qui in questo caso Il nostro avversario Bravo Devere all'anticipo Poi l'Inter Con Turam Cercare di prima Marco Arnau Dove c'è di poco Non indovina qui Perciala Che calcia a giro Murato Calcio d'angolo Buona anche la palla Di Turam In questo caso Delizioso E c'era L'uomo che stava Cercando di imitare Mkhitaryan Calcio d'angolo Per l'Inter Siamo Nella Nel primo quarto Del match Adesso avversari Che non sono riusciti A superare la meta A capo Letteralmente Inter partita Molto forte Già con un gol Proveremo la nostra Tattica come al solito Perfettamente avanti Cross al centro Mkhitaryan Che parata Che parata che ha fatto Il portiere Qui non ci arriva Bravissimo Devrei a chiudere E poi Barella Che però Perde il pallone Tanto possesso Palla nello stretto Poi Barella Se la riprende Altro erroraccio Per Ciala Mamma mia ragazzi Te ne fa fatica Uscire Continua a commettere Questi errori Poi Toram Che è bravo Mamma mia Che uno due Con Toram Che non arriva Nella parte finale Ma che giocata Nello stretto Tra i due Marco Praticamente Toram Ancora per Il quadrato Che guadagna Il fondo Il cross al centro Arriva Miki In realtà Nacciala Che ha superato Il difensore Lì Non di crescita Statura In realtà Ma è Ferrer Che l'ha presa Se fosse Ferrer Calcio d'angolo Proviamo lo schema Con Pavar Che la mette al centro Sta arrivando Arnautovic Ed è 3 a 0 Secondo gol Su calcio d'angolo La tattica Dzeko Che funziona ancora Pavar Per Arnautovic Che non sbaglia È 3 a 0 De Paul Contro Quadrato Arriva anche Miki A dare supporto Altro recupero Con De Vrij Che va a servire Marcus Turam Sbagliato l'appoggio Poi non ci arriva Miki per un pelo È bello Questo Possesso palla Dell'Iran Neymar Che caccia Sommer Che dice no E Di Marco Che prova a lanciare Da Marco Arnautovic Riesce a sporcare Il palone Quel tanto che basta Marcus Turam però Si gira molto lentamente La palla è ancora Per l'Iran Con De Vrij Che però Recupera tutto E va da Pavar A questo punto Prova a ripartire Con calma Sommer Che rilancia Per quadrato Sulla destra Un po' di spazio Il colombiano Bravissimo All'antecipo A quei Rodri Capisce tutto E poi anche Barella Però attenzione Poi Arnautovic A cercare Mork Suram Entra in aria Calcia col destro E fa 4-0 Al trentunesimo C'è sito benissimo Il contropiede Nerazzurro Male 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 Per questo Iran O Qatar O non so Che squadra Che squadra sia Che nazionale sia 4-0 Per l'Inter Avversario Che nella gestione Del pallone Poi Non è neanche così male Forse Andrebbe rivista Qualche sua scelta Difensiva Anche se Poi se dobbiamo dirla tutta A parte il primo E l'ultimo Gli altri due gol Sono stati sul calcio D'angolo Dove secondo me Lui poteva far poco Avversario Comunque sfortunato Bisogna Riconoscergli questo Sta cambiando Decisamente C'è Furuhashi Spostato Sulla destra Noi la marcatura Ce la andiamo a mettere È l'Iraq Ok l'ha detto il telecronista È l'Iraq Sappiamo che squadra è Però è che bravo Gialla a dare una mano Difensivamente Poi Arna Se non si aspettava Che ci arrivava E poi la recupera lui però E lancia Marco Sturam Sulla sinistra Può andare il francese Mamma mia Marco Sturam Prova di passare In mezzo a due Esagerato Però Dima C'è la Poi c'ha la In avanti Cercare Mkhitaryan Che sta infilato bene Si riprende il pallone Mkhitaryan E c'è la Il gran salvataggio Di De Ligt Al trentaseiesimo Qui l'errore In fase difensiva Se non sbaglio Di Ho visto Non so se Nesta O Maldini Mi sembrava Uno dei due Forse mi sbaglio Calcio d'angolo però Il suo incubo Direi Questo calcio d'angolo C'è Pavard Cercare La sponda Non riesce Arnautovic Che torna Di testa Da Di Marco Di nuovo indietro Cercare Pavard Poi ancora C'è la Noglu Tutto chiuso Per il turco Costituito a tornare Indietro ancora C'è ancora Di Marco Uno due Che funziona In area Quei che bravo Albert Ferrar A chiudere tutto E allora Sanè In avanti Ma Pavard La visce tutto Poi quadrato Cercare Mkhitaryan C'è Marcus Turam Ancora Il colombiano Che però Controlla male Il pallone Quindi può ripartire Neymar Ancora L'anticipo Questi lanci lunghi Che Per adesso Non stanno funzionando Bellissimo La triangolazione Dell'Inter Ancora Che si chiude Quadrato In area Cercare Marcus Turam Indietro Per Arnaut Dove c'è calcio Deviata Ancora in calcio D'angolo Ancora in calcio D'angolo Altra pausa A questo punto Ci entriamo anche noi Perché penso che lui Abbia fatto più di qualche cambio C'è Sanè Sulla destra E Rivaldo Andiamo a mettere Le marcature Se Rivaldo c'è Andiamo a mettere Sanè No Sanè ha messa a punta Quindi direi di no A questo punto Mi stacco Adesso è quello qua Di nuovo L'avversario Che ci copia la formazione Sta passando Al 5-3-2 Praticamente Quindi noi andiamo A togliere le marcature A questo punto Ancora per Pavard sul primo palo La sponda Ma Neymar addirittura Che vince il contrasto Con Pavard Mi sembra abbastanza surreale L'1-2 Per Mkhitaryan Ma ragazzi Ovviamente L'1-2 Era con Di Marco Quindi con il passaggio Di ritorno Qui con Pavard Cercavo Di Marco Non so perché L'abbia dato a Mkhitaryan Senza alcun senso Onestamente per me Peccato Si conclude qui Questo forcing Offensivo nerazzurro Palla in avanti C'è De Vre Che anticipa Quindi sempre Inter Col pallone Sta arrivando Ciala Calcia giro murato Dal suo stesso compagno Ancora Ciala A recuperare questa palla Poi Dima Per Arnautovic Che ha provato a calciare Fermato Finisce il primo tempo 4-0 Contro L'Iraq Inter che sta dominando il gioco Vediamo se l'avversario Proverà ancora A cambiare le cose Adesso lui dovrebbe essere Teoricamente con la formazione Adesso ha cambiato di nuovo Difesa 5 Sì Ma Quindi era nesta Mi ricordavo Avevo visto bene Difesa 5 Solo che ha un mediano Un CLS Un CLD Due punte Non lo so Vediamo che tipo di effetto Surtira questo cambio di formazione Se sarà Capace il nostro avversario A rimetterla in piedi Qui Petri ci arriva Molto bene Bravissimo Devrei A recuperare questo pallone L'ora Mkhitaryan Può scendere palla al piede Accelera l'Armeno Si fa vedere Morkusturam Di nuovo per Miki Insomma Che venisse un po' meglio Questo passaggio Devo essere onesto Dai Vai All'anticipo Non ci arriva invece Però Recupera tutto Bastoni E qui se Arna Riusciva a ridarla indietro Sarebbe stata divertente Arna dove c'è fuori gioco Mi sono accorto un pelo Dopo il passaggio Di Barella Palla in avanti Lunga Cercare Mbappé Dovrebbe essere in controllo di testa Solo che colpisce male Bravo però Ancora Miki Recuperare questa palla La alza benissimo Qui quadrato Poi Miki Si fa leggere il passaggio Così come Così come Pedri Poi ancora Miki Un po' in ritardo Qui quadrato Che invece Commette fallo Non riesce a anticipare Sembrava essere arrivato In anticipo Però poi alla fine Si è visto il movimento Proprio in un conguro Non so perché Non ha allungato il piede Per prendere il pallone Ma Ha allungato l'anca Per commettere fallo Lo racconde Poi Neymar Però far tutto da solo e calcia E c'è il gol bellissimo Di Neymar Prende il pallone Scarta tutti Qui Neymar Qui Sommer Lo abbiamo cambiato Abbiamo messo una Una diversa Estensione Ma mi sa Che il problema C'è lo stesso Bravo Ancora Arnautovic Che Poi si fa anticipare Di nuovo Ciala Invece Di nuovo Quanti anticipi A centro campo Non riusciamo a Fare una giocata Corretta come si deve Previssimo Ancora Di Marco Poi Dima A cercare Arnautovic Di nuovo Per Di Marco Che guadagna il fondo Il cross al centro La palla Spazzata dalla difesa Mamma mia Si salva Quei pedri In realtà Non è che si salvano Fa una grandissima finta Devere chiudere tutto In avanti Per Marco Sturam Che appoggia Amici 1-2 Per Turam In aria Che calcia Fermato c'è ancora Marco Arnautovic Ristabilisce Ristabilisce le distanze Altra palla Perse al limite Dell'aria Altro tiro a giro Stavolta Il torno di Marco Arnautovic A fare 5-1 Di nuovo Arnautovic Dove avere questo pallone Di nuovo Per Turam In aria Dall'altro lato A cercare Arnautovic Fuori gioco Mi sa Fuori gioco Netto Tra l'altro Ciala Che recupero Di valla centro campo Ecco i Rodri Si mette perfettamente Sulla linea di passaggio A anticipare Meghi però Se la va a riprendere Riparte l'Inter A cercare proprio Marco Sturam Vediamo se non è in fuori gioco Invece è ancora fuori gioco Mi sa che la stravestro Sta anche Utilizzando molto bene La tattica del fuori gioco O semplicemente Siamo noi in ritardo Con i passaggi Innesimo fuori gioco In ogni caso Fischio Donnerazzur Ripara alzata Con Riesce qui A tenere il pallone L'Inter Poi Turam Non è bravo Nel passaggio C'è Neymar Col pallone al centro campo In avanti C'è l'anticipo Di dev'è altro fuori gioco Secondo me è successo qualcosa Perché io fuori gioco Attivato Non lo gioco io Naturalmente Questo è un fuori gioco Venuto normalmente Con la difesa che sale Ci arriva qui Attenzione Calcia direttamente In porta Sané Secondo me Se ci avesse provato Rientrato sul sinistro Che il PD di Sané Potrebbe avere avuto Un esito migliore Pavar qui Ti va da quadrado Sulla destra Può avanzare il colombiano La finta se ne va Quella alza Non era per lui Ma va bene lo stesso Perché la palla è nera azzurra Poi il numero In realtà non il numero Ma lo spazio enorme Per Arnautovic Che calcio l'area Spinta E ci arriva Marco Sturama 75esimo 6 a 1 Iraq Che poi ragazzi Io mi sono accorto Adesso Che lo potevo leggere Sulla sinistra L'abbreviazione di Iraq Quindi Non so perché E qui Bappe che erroraccio Col sinistro Si infila Se lo perdono Sia Pavar Ma sia quadrato Ragazzi Lì quadrato Si vede che A livello di caratteristiche Difensive Sta messo Maluccio La curta Sempre per Bastoni E va da Di Marco Si prende un po' di campo Oltre il terzino italiano Può cercare C'è la Noglu Per Arnautovic Anticipato però Riparte allora l'Iraq Con Sané Ma Barella Ancora a dare una mano Molto bene qui l'Inter Passo di ritorno Per Turam Però non è preciso Non è preciso Neanche la La palla Ripartire dell'Iraq Bravo Rodri Che bravo Qui in questo anticipo In questa lettura precisa Bella questa giocata di Sané Sulla sinistra Prova a superare Di Marco Ma non ci riesce Recupera Di Marco Molto bene Poi c'è alla cercare direttamente Arnautovic Turam Ma non era quella forse L'intenzione Poi per Miki La lascia scorrere Ma Rodri è bravo Mamma mia qui Incredibile Neymar Come riesca a resistere A Barella E alla fine E alla fine si prende Anche in calcio Di punizione Quando siamo Ormai all'86esima Partita praticamente finita Bella questa palla Infilata in aria Cioè Devre L'Inter che controlla Senza troppi problemi Ora quadrato Bella questa giocata Dell'Inter che ne esce Ecco i costa curta Capisce tutto Molto bravo Molto molto bravo Pavar Ancora fermare Neymar Il più Sicuramente il più pericoloso Del Dell'Iraq In questo caso Bravo Ancora Barella L'anticipo Il passaggio è per Mkhitaryan Che prova a cercare Duram Altro errore In due A fermarlo Ci riescono Palla alzata E qui l'Iraq Che continua In questo forcing finale Tiro Smurzato E c'è Zommer che arriva Senza troppi problemi Sul portiere Direi che A questo punto Ci basterà semplicemente Attendere la fine Un'Inter che Ha fatto quello che doveva Non c'è più tempo E 6 a 1 L'esordio In terza divisione È ottimo Arnautic tra l'altro Migliore in campo Quindi Decisamente Non ha fatto rimpiangere L'assenza del capitano Lautaro Taccantini Perfetto In grande spolvero Quest'oggi Quindi si parte benissimo Con i 30 punti Semplici Semplici Ragazzi È tutto per L'episodio di oggi Il primo episodio di oggi Io vi ringrazio Per aver guardato E ci vediamo alla prossima Grazie.